Un buongiorno a tutti a teori da Dovebit, oggi vi presentiamo la recensione della AziROM, forse meglio conosciuta come TriscatROM o come BigROM, fa niente, questo è l'ultimo nome adottato dal team di sviluppo che ha rilasciato da qualche giorno la versione Alpha 3, che per Nexus 4, Nexus 5 e Galaxy S3. Questa versione precede dieci giorni il rilascio della Beta 1. Procediamo allo sblocco del telefono, come potete vedere il lucchetto è di un colore diverso quando è statico e di un colore quando si procede allo sblocco. Questo è già un indizio, infatti la ROM è curata benissimo sotto l'aspetto grafico e anche l'aspetto di fluidità e stabilità è davvero curatissimo. Voi vedete qualche lag, qualche rallentamento, questo perché la sto registrando e anche per il fatto che la batteria è scarica e quindi ha un risparmio energetico attivo. Allora, andiamo ad abbassare la tendenza delle notifiche e vediamo come la grafica della ROM è veramente importante per gli sviluppatori. Infatti abbiamo una delle notifiche in stile Google Now. Accediamo al pannello di quick toggle, scusate la pronuncia e abbiamo i toggle completamente ridisegnati con un colore anche diverso di sfondo, lo sfondo bianco. Il designer, il grafico Adriano Loiacono ci ha impiegato davvero molto tempo a ridisegnare tutti i toggle, ma non solo, dato che sono ridisegnate anche tutte le impostazioni con uno sfondo bianco, quindi un'innovazione rispetto alle altre ROM su base a OSPI. Le future di questa ROM non sono molte e anche sono diverse da quelle implementate, quindi non sono copiate da altre ROM. Troviamo per esempio il double tap to sleep sulla status bar, sulla parte della navigation bar o sul pattern che sarebbe lo sblocco. Poi possiamo cambiare l'icona della batteria, possiamo cambiare il colore anche se questo va in crash, dato che il colore, anche se proviamo a cambiarlo, non cambia, anche quando la batteria è carica. Notification LED, possiamo cambiare il colore. Ecco, questo crash è vero, mi ricordo che questo era un problema e vabbè questi sono due bug, ma dopo questi non ci dovrebbe essere più niente. Allora, cos'altro farvi vedere? Un'altra cosa importante implementata proprio da tutti e con quasi tutti i developer, quindi Matteo Lobello, Francesco Colella e Matteo mondo e così via, è lo status bar engine, infatti noi entrando in un'applicazione avremo la status bar cambierà colore e cambierà colore con lo sfondo, quindi apriamo un'altra app, app, apriamo, che so, ultiron manager, vabbè l'avete visto da lì anche, però apriamo, non lo so, non so dove farvelo vedere, scusate, non so veramente dove aprire, che app, play games, ecco, e come potete vedere cambia di colore. Ogni volta che scrolliamo la pagina la status bar è nel colore di quello dominante, è nel colore dominante della pagina cambiando anche il proprio colore. Questa è una novità introdotta, non l'avevo mai vista prima, è davvero molto interessante. Anzi porta con sé delle molte app che aiutano nell'uso giornaliero del telefono, possiamo, lo sviluppatore dell'app, Davide Dell'Ai comunque, ha fatto un egregio lavoro, un lavoro egregio con Azzy Voice, adesso qui andiamo a mettere in Italia femmina, che è perché qui ci fa scaricare la roba, però l'avevamo già scaricata, non so per quale motivo, va bene? Ecco, con Azzy Voice davvero funziona tutto molto bene, non abbiamo avuto alcun problema. Poi Azzy App, che è quella che ci collega al blog, all'assistente vocale e a tutto, e questo è sempre da Davide, ed il blog o tutto il resto è curato dal social media, o da altri componenti, ed è tirato su, quindi, non possiamo dire, il sito è stato fatto sempre da un collaboratore della ROM, nonché cofondatore, Luca pensa bene, e quindi una ROM, come poi avete potuto sentire dai nomi, completamente italiana. A me piace davvero moltissimo, non ho avuto alcun problema, la batteria ottima, non arrivavo a fine giornata molto bene, senza alcun problema. Abbiamo anche le notifiche da lock screen, che vi faccio vedere da qui, eccolo, qui, lock screen notification, quindi, va bene, possiamo modificarle in molti modi. In quest'ultima versione è stato introdotto anche l'Easter Egg, molto carino, tutto questo è disegnato dal graphic, da Adriano, come dicevo prima, qui abbiamo le varie versioni Android, con il personaggio sulla scritta Azzy ROM, con il personaggio, con il telefono, e così via, con vari disegnini. Non ho nient'altro da dire, la ROM ci è piaciuta moltissimo, vi faremo sapere i nostri pareri anche nelle prossime versioni. Per oggi è tutto, da Giovanni Kelly per outofbeat.it